Sulle scale di Palazzo Zanca il benvenuto con un abbraccio del sindaco Renato Accorinti al presidente della regione Rosario Crocetta, il governatore di Sicilia a Messina per l'incontro dedicato all'istituzione delle zone franche urbane, un aiuto per gli imprenditori che potranno investire nelle aree periferiche con particolari sgravi fiscali. È una misura che in quartieri che attualmente rappresentano una marginalità urbana di ripresa che li può mettere all'interno a far acquistare loro non un assorbimento verso il centro, non più quartieri d'ermitorio ma invece far acquistare loro una centralità urbana perché diventa conveniente investire nelle zone franche urbane. A Marsiglia dove questo esperimento è stato già fatto prima che in Italia si è visto dopo un certo numero di anni un incremento dell'occupazione del 30%. C'è un interesse dappertutto, è chiaro che molto qui bisogna fare in termini di promozione, cioè la gente deve sapere che le domande si possono presentare dal 5 marzo fino al 23 maggio, altrimenti rischiano poi di uscire fuori da queste misure. Ma le zone franche urbane sono state solo uno degli argomenti trattati a Palazzo Zanca. Il sindaco a Corinti non ha perso l'occasione per illustrare i suoi progetti sull'area integrata dello stretto per i quali chiede l'appoggio della regione. E poi c'è il capitolo finanziamenti regionali, quei 40 milioni di euro che Crocetta aveva promesso per Messina durante la sua ultima visita al comune. A domanda precisa la risposta del presidente lo è altrettanto. A che punto siamo? Queste risorse arrideranno o no? Allora, noi continuiamo a non capirci. Noi finanziamo progetti esecutivi di lavoro, non diamo soldi a pioggia. I soldi possono essere utilizzati nel momento in cui si presentano i progetti. Mi pare che già un primo straccio qualcosa è stato presentato, però è chiaro, non è che si danno i soldi per nulla. Si danno i soldi perché c'è un quartiere a riconfigare, c'è il progetto esecutivo, c'è una strada da fare. Ed allora abbiamo ascoltato il sindaco a Corinti che garantisce il comune è pronto a fare la sua parte e sfrutteremo tutti i finanziamenti. Non faremo perdere neanche un centesimo perché progetti esecutivi ce ne sono per più di 40 milioni, perciò uno dopo l'altro saranno portati alla regione e chiaramente finanziati e si vanno a fare le opere che servono. Ci sono già i primi 10 milioni e 9 sulla zona di Fondo Fuscile, accanto alla scuola, quella che tutti conoscono, di Villaggiardisio e l'Albino Luciani. Lì c'è un progetto di 10 milioni e 9 e quello già è in corso. Perciò i progetti ce li abbiamo e saranno portati alla regione. Questo è chiaro.